Va bene, grazie. Grazie e adesso sentiamo Alberto Trotti, membro del GSO Pianborno. Grazie naturalmente per essere qui con noi. A Pianborno c'è un bellissimo oratorio, quindi l'importanza di avere un oratorio così ben attivo credo che sia fondamentale. È fondamentale perché comunque è d'appoggio, di sostegno, d'aiuto a tutte le attività, tra cui quella del biliardino che ovviamente è fatta proprio all'interno del nostro oratorio. Noi è il terzo anno che partecipiamo con una squadra e dall'anno scorso con due squadre e abbiamo sempre scelto di stare in oratorio per portare nelle serate in cui facciamo le nostre partite in casa della gente, rendere vivo e poi, come ho detto, avendo l'appoggio di quello che è il gruppo oratoriano e il gruppo sportivo dell'oratorio ci facilita e ci permette di partecipare e di giocare e trovarci insieme, come si dice sempre. Lo spirito è quello tra di noi e anche con gli altri. Poi dopo si forma anche un rapporto di amicizia con i giocatori delle altre squadre. Ci si trova anche in estate, si va negli altri paesi a fare ancora partite anche insieme. Voi avete anche squadre di giovanissimi, si riesce a coinvolgere un po' i giovanissimi oppure è più difficile? Quello per ora è più difficile, però siamo due squadre, chiamiamole Open, vedremo di poter attivare, perché comunque anche i ragazzi, come si dice, nel biliardino c'è, giocano con gli altri miei cose, vedere di Mari costruire e fare qualcosa anche con loro per poter proseguire poi anche e fare, poi poter aderire anche, quest'anno non abbiamo potuto aderire, non siamo riusciti, per i prossimi anni anche all'invito per le squadre giovanili. Ottimo, bellissimo questa cosa. Tra l'altro potete essere d'esempio e poi magari, sai, cominciano ad amare il biliardino anche i giovanissimi vedendo giocare quelli un po' più grandi. Esatto. Grazie mille.